Perché conto solo quello che voglio io, quindi basta. Ma che è una colazione? Basta, mi interessa Sara. Ti interessa Sara? Sì, mi interessa Sara. Veramente? Sì. Vabbè, vai con lei. Pensavo di rientrare un pochino di più nei tuoi gusti, però se mi sbaglio non è un problema. Secondo me Sara è un pochino più bella di te. Sei bravissimo. Fatemi un applauso per favore. Tu pensi che a me potresti interessare più te che Sara? Lo so, io ti sbaglio. Sbagli. Manuel decide di seguire il prezioso consiglio e spazzato via ogni briciolo di discrezione e tatto, si lancia di ciuffo sulla procace torinese. se ne combattere. No, no, vabbè, no! Ma scusa! Ma stiamo scherzando! Come guardare le tette quando parli? Guardami in faccia. Sono delle cose abbastanza attraenti. Io? Io non sarei il suo tipo. Quella è il suo tipo? No, amore, quella è quella roba con un c***o. Ma che c***o sbagliato? Amore, ma quello sbagliato. Ma lei ha già parlato. Io non trago. Non stai rosicando. Non stai rosicando. No! No! Non stai rosicando. Madonna! Non stai su 83 anni. Sara! Andiamo a letto. Tu che fai? Te la porti in camera tra le cinque minuti. Perché? Eh? Perché? Vuoi subito? E tu tra le cinque minuti ce la porti in camera. Ma che è una colazione. Vieni con me. Sbaragliata la concorrenza del tandem Probo-Fuckboy. A Manuel non resta nient'altro che andare dritto al sodo. No, vabbè. Come se non ci fossero nelle capi. No, no. Non ci sono nelle capi. Io reagisco in i miei modi. O ci resto male, tipo resto a letto così. Oppure tiro i bicchieri in testa e rompo in altri. No, te lo giuro. Quindi cosa facciamo? Non lo so, sto ancora decidendo. Allora, facciamo i miei bambini giù. Quindi se ti prendi il limone ci stai. Devi chiederlo un'altra volta. Hai visto? No, è solo un impulso mio così. Non ci farei caso. Evita di bagnare me. Non ci farei caso. Evita di bagnare me però. Perché sennò poi tocca anche lui. Eh, ma gli stai attaccata. Ma probabilmente è già bagnata. No, amore non mi bagno così facilmente. Non mi chiamo Cecilia che per un limone poi si attacca alle persone. Ma a me piaceva lui. Te l'avevo detto. Vabbè ho capito. Siamo amiche da una vita. No, no, no. Figurati. Figurati. Però non puoi pretendere queste reazioni normali. Capito? E beh, ma se tu che non sei normale facendo queste erezioni dopo limonare. Continua a limonare. Continua a limonare. Non ti preoccupare. Non ti badarvi. Ma cara gli ormoni. Non ti badarvi. No, gli ormoni sono altissimi. Sono un po' altissimi. Mamma mia. Ma sono un limone, vai. Ma che modi? Mamma... No. Mio. A me non mi interessa se lui non interesso, come dice. Non me ne farò un c***o. Perché conto solo quello che voglio io. Quindi basta. Intoccabile.